Senatore Alfonso Andria, no al pedaggio sulla 3, perché? Per tante ragioni, la prima perché la 3 è un'autostrada ancora da completare rispetto alle opere programmate per le quali si accusano fortissimi ritardi con tutti i disagi che ne derivano sull'utenza, sulla mobilità nazionale, su quella locale, su quelli che sono anche i movimenti di persone, di autoveicoli, soprattutto nei periodi di alta stagione, per le fasi di esodo e di controesodo, per le vacanze. Questa è una prima ragione, mi sembra abbastanza assorbente, ma poi no per ragioni anche storiche, perché questa autostrada è stata istituita proprio per avvicinare, non per allontanare la gente, proprio per agevolare il movimento sul territorio, proprio per far sì che il mezzogiorno non fosse disconnesso dal resto d'Italia, ma fosse il più facilmente raggiungibile, naturalmente in sicurezza, no anche perché non ci sono ipotesi alternative. In genere, e ha fatto bene il Partito Democratico, indicendo la riunione di quest'oggi, ad evidenziarlo già dal manifesto invito, in genere, e capita, lo si può verificare praticando quelle arterie, nelle autostrade del centro nord, che ovviamente sono transitabili attraverso il pagamento del pedaggio, ci sono sempre collateralmente, proprio nel senso letterale, nel senso che proprio camminano a fianco alle autostrade, arterie di viabilità ordinaria alternativa. Qui no, qui ci sono le vecchie strade, che sono nelle condizioni che sappiamo, la statale 19 per le Calabrie, basti fare questo come esempio valido per tutti, per capire il problema, che sono nelle condizioni in cui sono, e tra l'altro non sono assolutamente considerate come strade in sicurezza. Questa è un'ulteriore ragione che impone una posizione ferma e determinata come quella che abbiamo assunto sia a livello parlamentare, sia a livello di rappresentanza consigliare regionale, sia da parte delle amministrazioni locali. Io spero che su questi argomenti riusciamo finalmente a superare anche le differenze politiche dei segni cui ciascuno di noi appartiene.